Perché lei ha ricordato un libro in cui voglio occupare una strada ed è il punto che ho fatto esso il capo e ancora più non sono eletto, che venga a contogliere queste cose, che sono le persone, interviene sulle nostre donne. Assolutamente! Ma non sono un esempio! Questa è una strada, 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 è una strada. E poi quando, ote la disposizione del resto, io posso fare la disposizione, il resto del resto del resto, e, il resto del resto, di il resto del resto del resto, di cui voglio pensare, che voglio lasciare ammiginizzare una strada. E mi trasporto tutti a dire che cosa? La parola, la parola, è una strada, 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 Caro Presidente, io le dico, addirittura la sospensione del poter concepire una discussione che avesse le fondamentali anche portando le sue ragioni del vero, ma non in caso che ne voglì Dio nella vita, e in primità, poi in seguito alle eccezioni come vale la dica, di modificare un altro indirizzo che io ti consegno, la consegno, che il giusto abbia visto continuare a perseguire le regali massi come fa, di far diventare un artigente, questa volta, all'interno consiglio, con quello schifo a cui lei fa bene, che io condivido. Che cosa invece fa il Presidente del Consiglio? Visto è il voto che si sta per il poter. Allora, sei il dovuto della Montella, ma non si viene brucio. Non si fa bene, ma non si fa bene certe volte, ma non si fa bene, non si fa bene, non si fa bene, non si fa bene, non si fa bene la metà, non si fa bene le regali massi come facendo bene, ma non si fa bene. Ma non si fa bene, ma non si fa bene la motivazione, ma non si fa bene, non si fa bene ci fare bene, ma se c'è nel confronte, non c'è nel discutere, perché è stato un intervento, perché c'è da chi ha detto così? C'è stato, è stato anche un intervento, erano la vicenda, che si trova alla conta, non è la vicenda, che si stava inesperanza, di portugolare. Sentite la voce di integrata di un posto che faceva con l'invinto 1,2,3,4,5, leque, il rispetto di ci. E' un passaggio da sセmpore. Non è questo che può rispondere io questo è il mosso giudice no, 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 no No, 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 no no, 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 no allora, beh, beh ho visto la mamma ho visto la prima che si vede a chunghiere perché il risorno di una quattro è una quattro ritorno, 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 ritorno! Allora, guardi il presidente, in questo caso, dovrei pensare sul colore diir, ma dovrei ritorno al capire il migliorio del matto, la cassa ha diventato, dovrei pensare, dovrei e capiremo lo stazio che ha scambiato! Dove va a spessire lei? Non so, ma lei è prestato di buone, ma non si può stare a niente! Allora di te! No, no, non mi sono! No, 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 lei è prestato l'altro tipo, quando viene in un altro spazio! Quando vi è guardo! Perché non si è messo la giugna? Eh, allora va! Io la vedo di te, mi ha resso una cosa molto ferita! Allora, io continuo a ripetere! Il partito dell'Occano, l'invito dell'Unione Vecchia e il suo progetto! Un atto di indirizzo rispetto alle scelte di costituzione di casa, più che l'intero. Allora, che si può dare notare! Che può dare notare! Indra! Voi sei, come lanciando il mercato! Perché? La bici dell'Occano, se la dove! Se la dove! Se la dove! Se la dove! No! Se la dove! Se la dove! La bici dell'Occano! La bici dell'Occano! Eeeee! Eee! 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 Da' voi! Eee! Io vorrei che venga a vostra colazione una cosa in cui si è lega a queste lezioni. Vedate il conflitto e il prezitato adoro. E' questo che mi chiede è una spesa di lei. E' il piano del testato, presente. Leggo! E' il nostro canale! Grazie a tutti. Grazie a tutti.